Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations Questo è il virus di Epis e abbiamo messo per infettare un quinto delle riserve idriche della terra Dannati terroristi E ora vogliono usare il virus per sperare un altro attacco Cercano la verità su terra grigia E la vendetta Raymond! Parli di quel cadavere di prima Mandate una squadra al balcone e nocchi Cerchi un collegamento con la nave o... Manderò Quinten e Kate No, io odio la neve E lei che odia te? Scoprite tutto il possibile sulla Veltro Cos'è questo rumore? Acqua? Sì Viene dalla giù Sì 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 Grazie per la visione! 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 Ok! Ce l'ho fatta! Niente chiavi qui! Immagino che vadano attivati entrambi allo stesso tempo! Allora ci serve quella chiave! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.